Benissimo, la presero, la restaurarono e la sistemarono. Dopo dieci anni, nel 2007-2008, hanno ritrovato la seconda parte dell'infero. Furono lungimiranti coloro i quali la sistemarono qua, lasciando loro spazio per mettere i testi. Ebbene, questa seconda parte è stata in giro per il mondo, qualcosa come quattro anni consecutivi. Ha fatto mostre a Singapore, a Shanghai, in America, e a Shbalod, il reperto archeologico più grande, non posso dire il più bello, perché nell'arte non esiste una cosa più bella dell'altra, però è quello più grande, è quello che ha fatto maggiore sensazione presso il pubblico, sia orientale che americano. Noi adesso, questa seconda parte dell'infero, la teniamo qua nel museo che abbiamo adesso appena visitato, siamo in attesa di vederlo in opera, quando sarà posto in opera sarà uno spettacolo, perché che cosa disegna? Vi ho detto e parlato di famose ville romane marittime imperiali, questa era uno di quei ninfei, sapete, quando entrate nelle antiche case, in fondo troviamo una specie di cappella, in fondo troviamo una specie di gioco di acqua e di fontane, la prospettiva che viene creata. Questa era una parte di una villa marittima che guardava il mare, guardava il mare in direzione Capri, per di più, giù alla Marina della Lombra, in località Pipiani. Chi è di Massa Lombretti? Pollo, Pollo. Pollo, Pollo. Fabrizio, eh? Ebbè, Fabrizio, vi piano, tu vai a fare il bagno sul muraglione, dietro al porto. Questa era una villa, la villa non la conosciamo, conosciamo il ninfeo. Questo ninfeo è una cosa spettacolare, perché ci ha fatto capire e conoscere i canoni del giardino antico romano. Quali sono i canoni? Vedete questo reticolato? Vedete? il tipo di albero, come era fatto il giardino. Quindi ci ha raccontato la storia del giardino nell'antica Roma. Poi è tutto ricamato e attorniato da una serie di conchiglie, conchiglie che si chiamano Pec Ten, mentre invece in orizzontale ci stanno nella parte superiore. Vedete qua? Le conchiglie che si chiamano Murice, sono un altro tipo di conchiglie, sono più pregiate. Molto probabilmente la parte bassa, l'acqua che scorreva, la parte bassa è dedicata alla natura umana e la parte superiore, anche perché l'unica cosa che vi invito, venite a vedere un attimo e poi ci diamo, la testa di Amoro. e poi ci diamo.